La provincia di Lecce riuscirà a tener fede alla promessa di razionalizzare il più possibile le risorse e l'accensione dei riscaldamenti dei singoli istituti, coprendo 5 ore giornaliere e sempre durante le lezioni. I termosifoni resteranno accesi almeno fino alle 12. E questo l'impegno assunto dal presidente della provincia Antonio Gabbellone al termine di un lungo e articolato confronto avvenuto questa mattina con i ragazzi dell'associazione studentesca Carpe Diem e rappresentanti di istituto di tante scuole secondarie superiori del Salento. Gabbellone ha ribadito ad ampio raggio non solo i confini dell'emergenza riscaldamenti nelle scuole ma anche tutte le altre criticità che rischiano di investire il mondo dell'istruzione nei prossimi mesi per effetto del vuoto di competenze, poteri e risorse determinatosi con lo svuota province e la riforma del Rio. Già nel 2016, ha detto Gabbellone, sono attese ulteriori novità normative per la gestione delle scuole che intanto vivono una condizione di incertezza sul loro stesso presente che impedisce di provvedere anche solo al pagamento delle utenze di luce, telefono e acqua. Questa scelta è la scelta della responsabilità, del senso del dovere verso i nostri giovani, ha detto Gabbellone, e non la scelta che invece ci avrebbe imposto la fredda e rigida esigenza di bilancio che ad oggi ci dice che non sappiamo come far fronte alle spese future.